Cari amici, benvenuti in Sossitalia che festeggia quest'anno 25 anni di attività, 25 anni passati come partner a fianco delle più prestigiose rubinetterie mondiali. In questi 25 anni abbiamo assistito a cambiamenti epocali nel mondo ma anche nel nostro settore. Insieme a molti di voi abbiamo cercato di capire questi cambiamenti e di prenderne le misure. Oggi a 25 anni di distanza posso dire che grazie a tutti voi ho conosciuto nuovi paesi, nuove tecnologie e tante persone che mi hanno aiutato ad arricchirmi culturalmente e professionalmente. A voi va un grandissimo grazie anche per questo. Ho cercato di trasferire anche alle persone più vicine a me, ai collaboratori, di tutto quello che ho appreso in questi 25 anni. Devo dire che con molto orgoglio sono contento di avere un team di lavoro validissimo. e da quattro anni facciamo una super innovazione, quantomeno nel nostro settore ma non solo, con la collaborazione che è iniziata due anni fa col Politecnico di Milano. Ingegner Gokhan e Giorgia Galiberti ci hanno affiancato in un percorso che ha portato a questo risultato. Ho avuto questo piacere di collaborare in un progetto molto diverso per me. L'ingegnere meccanico studiare la bellezza non è molto facile. Trovare un modo di valutare il bello e aiutare al designer e poi trovare questa forma un po' nascosta nella polvere è stata un'avventura molto interessante. Siamo molto soddisfatti e siamo fieri dei risultati. Come designer mi sono trovata a collaborare con un'azienda che mi ha dato la possibilità di sperimentare, quindi appunto indagare cosa può essere l'ingegnere, avendo studiato e conosciuto per quattro anni abbondanti insieme a Gokhan. Mi sono trovata come anello di congiunzione tra quello che è l'ingegnere, quindi il processo e un'azienda che ha voglia di investire, conoscere e affrontare questo mondo. Quindi riuscire ad unire in un prodotto quello che è appunto il prodotto stesso, il prodotto finale e quello che è la ricerca e sviluppo in questo campo. Ad oggi la forma, il prodotto, il viaggio che abbiamo fatto insieme è stata una bella collaborazione. Il viaggio che ci tengo a sottolineare è rivolto a un prodotto funzionante, non un pezzo unico, un'opera d'arte, ma un prodotto ingegnerizzato dal nostro reparto ricerca e sviluppo e in 25 anni e più del sottoscritto sono 32 in questo settore che mettiamo a disposizione dei nostri clienti per indagare il futuro. Grazie. 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 Grazie.